Anche in Puglia palestre e piscine sono pronti a ripartire. Dovranno rispettare protocolli precisi e rigidi con la speranza che sia la ripartenza definitiva. Chi ama il nuoto dovrà pazientare ancora un po'. Chi invece si allena con pesi e attrezzi ha già iniziato a fare il conto alla rovescia segnando il prossimo 24 maggio come il D-Day per ricominciare a rimettere in movimento i muscoli. Perché con l'ultimo decreto governativo gli amanti dello sport potranno tornare alle passioni abbandonate a causa dell'emergenza sanitaria. Chi pratica nuoto dovrà attendere il primo luglio per tuffarsi in vasca e bruciare abbracciate le corsie. Una data che lascia l'amaro in bocca a chi è responsabile dei centri sportivi. Purtroppo non è una ripartenza, è un rinvio ulteriore per il mese di settembre. Mi sembra un po' assurdo chiamare una riapertura il primo luglio in quanto si sa benissimo che in questo periodo la gente va al mare in vacanza. Tutti ci auspicavamo l'apertura dal primo di giugno così avevamo un asso temporale, quello di giugno, luglio e magari i primi di settembre per poter dare la possibilità a coloro che hanno pagato e sfruttare quei voucher. Invece così facendo il debito si risposta per il prossimo anno agonistico. Gli ultimi 18 mesi sono stati complicati. Piscine disponibili solo per il nuoto agonistico e sale per gli allenamenti lasciate vuote. Ora le strutture riaprono a precise condizioni. Noi come tutte le piscine abbiamo subito colto le nuove indicazioni dal punto di vista delle normative, quelli che andavano a influire su quello che è il numero di persone per corsia, uno ogni sette metri quadri e abbiamo ovviamente tutte le piscine, Parlo e tutti i centri sportivi che si rispettano hanno dei gestionali di controllo dei flussi delle entrate. Abbiamo modificato gli accessi, abbiamo fatto in maniera tale che il flusso delle persone all'interno degli spoliatoi sia un flusso continuo e con un distanziamento maggiore. La parola d'ordine resta sicurezza che tra pesi e corsie è una regola in vigore già da prima dell'emergenza sanitaria. La parola d'ordine è sicurezza, una sicurezza che sinceramente lo facevamo già da prima. Chi gestisce gli impianti sportivi, chi gestisce la salute delle persone sa ben e ha ben in mente che cosa vuol dire fare lo sport, che bisogna farlo in sicurezza, in totale sicurezza anche dal punto di vista igienico-sanitario perché lo sport è salute e la salute è sport.